Ciao a tutti, in questo video parliamo delle penne stilografiche carioca. Chi ha detto che usare una penna stilografica debba essere una pratica necessariamente costosa, solo per pochi eletti che possono permetterselo? In realtà, fino ad alcuni decenni orsono, le penne stilografiche erano la normalità utilizzate da bambini e in generale degli studenti di tutte le scuole, nonché dagli adulti, ovviamente, insomma, per le loro scritture di tutti i giorni. Va da sé che strumenti così diffusi dovevano essere anche economici, facilmente accessibili, a persone di tutti i ceti e fasce di reddito. Le penne scolastiche erano semplici, funzionali, resistenti, ma soprattutto dovevano costare poco. Le penne stilo carioca, che recensisco in questo video, incarnano appieno questa filosofia. Costano pochissimo, sono ben realizzate e di facile uso. Sono, insomma, delle penne di buona qualità. Carioca è un'azienda italiana storica, molto nota e apprezzata per i suoi prodotti di cancelleria. Purtroppo in questo caso, ma vale anche per altri prodotti, ha scelto di delocalizzare la produzione in Cina. Ad ogni modo, io mi aspetto che il controllo qualità, la realizzazione, l'ideazione, siano italiane. Andiamo a parlare della confezione. Ah, innanzitutto il prezzo. Si possono trovare sul sito di vendita ufficiale della Carioca. Sono disponibili nelle tre varianti di colore che potete vedere qui. Qui, rossa, blu, azzurro e nera. Nella confezione troviamo, oltre alla penna, una cartuccia all'interno e altre due cartucce. Quindi c'è, diciamo, un set completo che serve non solo per iniziare ad usare la penna, ma anche per usarla in maniera continuativa per un certo periodo. Poi, se vogliamo, possiamo ovviamente comprare cartucce, visto che utilizzano quelle internazionali, sono facilmente reperibili in moltissimi negozi, peraltro anche a costi ragionevoli. La confezione è questa, materiale cartonato con delle semplici istruzioni dietro, ma c'è poco da dire, insomma, è semplicissimo. E qui davanti il blister con la parte plastica è all'interno ben protetta, sia la penna che le cartucce. Oltre al sito Carioca che ho già menzionato, lei si trova in alcuni supermercati e negozi che hanno un reparto cancelleria. In generale il prezzo si aggira intorno ai 2 euro, 1,90, 2 euro, 2,10 euro. Quindi stiamo parlando comunque di penne decisamente economiche. Ma andiamo a vederle un po' più in dettaglio. Io ne ho prese parecchie perché, oltre all'uso personale, sono adatte anche per poterle regalare a persone che magari non conoscono la silocratica, ma potrebbero essere interessate e, a mio avviso, queste rappresentano un buono strumento perché non richiedono un grande impegno economico e funzionano bene. La struttura della penna è interamente in plastica. Qui ho due esemplari. Questo è quello blu, quest'altro è quello nero. Ripeto, c'è anche rossa. Comunque le cartucce in dotazione per tutte sono sempre blu. Qui abbiamo una clip sempre in materiale plastico. Il cappuccio è ad apertura a scatto. All'interno il pennino in acciaio con una... Non so se si vede una decorazione piuttosto semplice. Non è dato sapere se è un pennino con chissà quale origine, però comunque c'è scritto iridium, quindi ha una punta in iridio che le garantisce resistenza e buona utilizzabilità. Qui vediamo, ripeto, tutto quanto in plastica. L'alimentazione è fornita da... Apriamo anche quest'altra, così lo si vede. E' fornita da una cartuccia d'inchiostro nel formato standard internazionale. Sono cartucce facilmente reperibili. Si prendono, si infila, si preme in fondo. Io preferisco farlo in questo modo. Premo fino a che la parte dell'alimentatore buca la parte anteriore della cartuccia e l'inchiostro comincia a fluire attraverso l'alimentatore, il conduttore, e quindi arriva fino al pennino. Il fusto è sufficientemente grande da contenere due cartucce. Cosa importante? Le due cartucce entrano proprio bene, in maniera precisa, a pressione, il che significa che, oltre a quella in uso, mettendo la seconda cartuccia e chiudendo il fusto, si ha quella particolare resistenza. Si fa in modo che non c'è nessun gioco all'interno. La cartuccia inserita rimane premuta dalla seconda cartuccia, quella di scorta, che fa da spessore. Diciamo che non c'è alcuna possibilità affinché si possa sfilare la cartuccia principale. Quindi si può tranquillamente portare in giro senza il rischio, la paura, il timore che perda inchiostro per qualunque motivo, perché magari con un urto o con, diciamo, sbattendola, mettendola in una borsa, magari uno ha paura che si può staccare. No, in questo modo, utilizzando una cartuccia posteriore, non si può staccare. E poi quando finisce la cartuccia principale, ovviamente possiamo invertirle, mettere la cartuccia di scorta davanti e quella ormai esaurita dietro. Poi, una volta arrivati a casa, possiamo buttarla o riempirla. Insomma, possiamo comunque utilizzare altre cartucce. Questo è il cappuccio, come ho detto, a scatto. La filettatura è piuttosto larga, è sicura, non ha, diciamo, dei fili troppo fini, sottili. Diciamo, si avvita in maniera certa, è assolutamente semplice. Vediamo un pochettino come va a scrivere. Questa è la nera, all'interno ha una cartuccia Schneider. Qui ho già scritto, insomma, il nome della penna. Il tratto è un M. Qui lo sto utilizzando su un quaderno della Blasetti One Color. Essendo una penna scolastica, viene naturale usarla su un quaderno scolastico, quindi non una carta specializzata per l'uso con stilografiche. L'inchiostro abbiamo detto che è uno Schneider. Qui invece abbiamo la penna azzurra. Forse all'interno c'è la sua cartuccia blu, quella che è una di quelle che è in dotazione. La scorrevolezza è buona. Io mi sono sempre trovato bene con queste penne, perché effettivamente sono affidabili e questo è il loro pregio principale. Poi, peraltro, oltre a scorrere bene, a funzionare, perché non è una cosa scontata, ripartono subito e anche dopo un discreto periodo di fermo, perché magari per qualche giorno non le si va a utilizzare, devo dire che ripartono bene. Cosa che invece magari non accade con penne che costano molto di più. In generale, quindi andiamo un pochettino a trarre le conclusioni, sono delle penne che vengono vendute in questa confezione, sono valide, costano poco e hanno ben tre cartucce in dotazione. Funzionano bene, il pennino è scorrevole, equivale circa ad un... anzi, possiamo dire che è assolutamente un M, sulle carte specializzate può apparire come un F, ma comunque è un buon pennino, va bene, e secondo me sono adatte un po' a tutti. Io vi sono in qualche modo affezionato, perché in particolare questa nera è forse la prima penna che ho portato in giro con me, perché mi trovo bene, costava poco, non avevo paura che si perdesse, che si rompesse, non avevo paura neanche che perdesse inchiostro, che potesse quindi danneggiare gli abiti. Insomma, è un prodotto a mio avviso decisamente valido, poi per quello che costa. Io vi consiglio di acquistarlo e di provarlo. Ripeto, si trova nei supermercati con un reparto cancelleria, ho visto che ce ne hanno nella catena di supermercati per prodotti casalinghi del risparmio casa, e ovviamente se proprio non riuscite a trovarla in giro, c'è il sito web della Carioca, lo shop online in cui sono vendute. Mi pare in questo periodo, intorno ai 2,10 euro l'una, poi ci sono le spese di spedizione, ma potete ovviamente comprare vari prodotti insieme. Insomma, vanno bene, funzionano bene, sono affidabili, e io le consiglio. Con questo video penso di aver fatto una cosa gradita. Un saluto a tutti quanti, arrivederci al prossimo video.